Ha patteggiato la pena di 4 anni davanti al giudice per le indagini preliminari Elena Lazzarin per omicidio stradale. Una barista 28enne la sera del 5 luglio scorso aveva investito con la sua Ypsilon Valerio Nigrelli di 61 anni a bordo di uno scooter all'altezza della rotonda di via San Marco prima del centro di Ponte di Brenta. La donna non si era fermata a prestare soccorso scappando, è stata poi rintracciata nel giardino di un'abitazione ed è stata arrestata. Dalle indagini inoltre è emerso che la 28enne era alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ora è arrivata la condanna di primo grado.